Natale in tono minore, ma è pur sempre Natale, allora l'Aquila si accende con le luminari e con l'albero in piazza finanziato dalla Camera di Commercio nella giornata caratterizzata dall'inaugurazione della nuova pavimentazione nella prima parte del corso, restituita dalla ditta alla città in tempi record, lavorando persino la notte. Meno luminarie tra la villa comunale e la fontana luminosa, quelle più importanti, per dare anche un segnale alle famiglie che soffrono il caro energia, problema che anche il comune investe, ma cascata di luce nelle altre vie. Nel fine settimana tutte le installazioni saranno completate, in città già si respira l'area natalizia con i negozi vestiti a festa, tutti pronti per le festività e per accogliere il ricco cartellone natalizio messo in campo dal comune che prevede iniziative e mercatini. La novità di quest'anno è anche nella ruota panoramica montata nella centralissima piazza Duomo che sta incontrando la curiosità di molti. In piazza anche la pista di pattinaggio che negli anni scorsi ha incontrato il favore di bambini e famiglie. I commercianti aquilani sono felici e sperano che crisi a parte sia un bel natale di gioia e incontro. Ma sicuramente sarà un bellissimo natale con l'albero bellissimo, con il corso bellissimo da quello che si vede. Sarà un natale straordinario, l'importante è fare. Ecco un po' di crisi c'è, si tira un po' la cinghia però è natale, si va avanti lo stesso, l'aquila è abituata insomma a non mollare. Beh la crisi si c'è e fortunatamente noi non siamo colpiti dalla crisi del web, però l'aquila tornerà a volare. I commercianti sono pronti, stanno sistemando tutto per il Natale. Che Natale vi aspettate? Per lei è un ritorno in piazza Duomo perché prima era qui con la sua casetta. È bello esserci, come sarà? Che cosa volete? Fino all'ultimo, l'ultima casetta sono riuscito a prenotarla perché mi dava fastidio proprio non starci quest'anno dopo tanti anni. E niente, mi aspetto un Natale, beh c'ho anche l'albero davanti, quindi dovrebbe essere, poi manco ha tanta gente per cui dovrebbe essere fortunato come Natale.